giorno dei morti la commemorazione di tutti i fedeli defunti comunemente detta giorno dei morti è una ricorrenza della chiesa latina celebrata il 2 novembre di ogni anno il giorno successivo alla solennità di tutti i santi si tratta della commemorazione di tutti i fedeli defunti afferma la new catholic enciclopedia durante tutto il medioevo era convenzione popolare che in questo giorno le anime che erano nel purgatorio potessero apparire sotto forma di fuochi fatui streghe rospi eccetera a persone che avevano fatto loro del male quando erano ancora in vita la bibbia dice chiaramente che l'anima è mortale quindi chi crede in quello che dice la bibbia non celebra feste che promuovono l'idea dell'immortalità dell'anima cosa accade dopo la morte se vuoi saperne di più in descrizione c'è un link più dettagliato sull'argomento